In mezzo al campo, il tocco per De Rizio, che osserva la situazione, lui che questo terreno di gioco lo conosce molto bene. L'apertura su Viteriti, la finta su Van de Putt, va morbido, sul secondo palo col sinistro, attento, come sempre Situm. Gatti, Iemmello, lo scarico su Fazio. Brignola, Iemmello, tutto nello stretto con il Monopoli che osserva le giocate del Catanzaro. Le giocate di Enrico Brignola, super gol, 6-0, punteggio tennistico, ma che giocatori, che qualità, che gol del 17. Enrico Brignola, 6-0 per il Catanzaro. Un gol che va solo visto e rivisto per la bellezza del gesto tecnico della giocata individua. La parte di Enrico Brignola, che come ricordavamo è arrivato a gennaio, ha detto mi metto a disposizione di un gruppo fantastico pronto a giocare in qualsiasi posizione.